Sul banco di prova ho collocato una locomotiva analogica, la Malle Troco 43285, loco tender su gassiose numero 4, che ho aperto per la manutenzione programmata. Non è visibile alcun decoder installato. Ora inverto il senso di marcia con un clic del mouse. Come può una locomotiva analogica comportarsi da locomotiva digitale senza aver installato un decoder a bordo? La risposta è semplice. Utilizzo il modulo ESU 51900 per il test dei decoder. Collego il binario all'uscita di pilotaggio motore del decoder, un ormi, e di gioco è fatto. Una loco analogica si comporta come una loco digitalizzata, senza dover sprecare soldi per decoder e soprattutto lasciando vecchie locomotive allo stato originale. provate. e cercare. Aggiungo. Pericolo. 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 Grazie a tutti.